L'amministrazione comunale di San Cataldo chiarisce la propria posizione in merito al presunto arrivo di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nei locali dell'ex Casa del Fanciullo di via Santa Maria Mazzarello. E lo fa il sindaco Modaffari durante la seduta del Consiglio Comunale mostrando un documento inviato alla Prefettura in cui si legge la contrarietà all'accoglienza di 95 emigranti nella sede dell'ex liceo artistico Rosario Assunto. La lettera datata 21 febbraio è stata inviata il giorno successivo alla comunicazione da parte della Prefettura del sopralluogo. Il giorno 21, il giorno successivo al 20, l'amministrazione comunale e il sindaco ha inoltrato una nota in Prefettura e consegnato in sede di sopralluogo la stessa con la quale si manifestava l'assoluta contrarietà all'utilizzo di quei locali per accoglienza di migranti. Giustificando la nota con una serie di considerazioni di carattere sociale che volevano essere altro che prendere le istanze dei cittadini. In quel momento ho ritenuto di agire nel rispetto totale della volontà dei miei concittadini ed ero sicuro che loro mi avrebbero certamente sostenuto in questo. Abbiamo esplicitato in quella nota e agli atti, e si può sempre visionare, quali erano le criticità dell'amministrazione comunale e qual era l'avversità contro la destinazione d'uso a centro di accoglienza per i migranti. Infatti quella struttura è una struttura che è ubicata a pochi metri dalla locale scuola San Giuseppe, ubicata a pochi metri dalla palestra sempre San Giuseppe, che è frequentatissima di giovani in tutte le ore, e adiacente alle figlie di Maria Ausiliatrice, in cui viene svolta un'azione sociale non indifferente con adolescenti di tutta l'età, e contestualmente si trova ubicata all'interno del quartiere di Santa Germania, un quartiere a rischio che le forze dell'ordine hanno sempre tenuto in debita considerazione per i notti fenomeni di criminalità che vi sono stati in zona. Insomma, la nostra amministrazione ha agito in silenzio per le vie istituzionali, rappresentando questa contrarietà alla prefettura. Subito dopo, personalmente, ho chiesto un comitato per l'ordine sicurezza pubblica che è stato tenuto in prefettura, alla presenza del prefetto, alla presenza del comandante provinciale della Guardia di Finanza, alla presenza del comandante provinciale Carabinieri, alla presenza del questore, in cui ho manifestato ancora una volta l'assoluta contrarietà dell'amministrazione comunale. Convocata inoltre un'assemblea cittadina, sabato prossimo 27 maggio alle 17 nell'Aula Consigliare, moda a far invita anche il deputato nazionale Alessandro Pagano, che nei giorni scorsi è intervenuto sulla questione. Proprio per rifugare ogni dubbio sul nostro atteggiamento su questa tematica, abbiamo voluto convocare questa seduta straordinaria, chiamiamola così, assemblea cittadina, in cui invitiamo tutti i cittadini ad essere presenti, invitiamo anche il deputato nazionale ad essere presente per far comprendere quali sono le posizioni reciproche, le bugie, le falsità che lo stesso ha ritenuto di dover dire. È chiaro che chi dice bugie non ha argomenti, è chiaro che non è credibile chi nel 2014, quindi tre anni fa, e ciò è possibile vingerlo sul proprio profilo network di Facebook, è possibile notare che lo stesso Dicea rappresentava che i migranti sono una risorsa per San Cataldo, adesso una inversione di rotta a 360 gradi, credibilità zero.